Buongiorno, buona lunedì a tutti, nuova puntata di Buongiorno Regione, dovremmo dire in realtà Euro Regione perché la nostra ospite di oggi è già qui con me, Valentina Piffer. Buongiorno Valentina, segretario generale del gruppo europeo di cooperazione territoriale dell'Euregio. Tirolo Alto Adige Trentino, un lungo nome che viene spesso abbreviato in GECT. Cos'è un GECT? I GECT sono enti che trovano fondamento nel diritto europeo e sono stati costituiti per facilitare e promuovere la collaborazione fra regioni trasfrontaliere. Approfondiremo naturalmente tra pochissimo ma parleremo anche di altro. Vedremo come è andata la giornata del FAI ieri a Bolzano con una maratona tra le chiese del centro della città. Vedremo le ultime notizie con il telegiornale, le condizioni del traffico ma subito le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Ci colleghiamo con Meteo Trentino dove c'è Gianluca Tognoni. Allora come sarà oggi il tempo? Buongiorno a tutti. Diamo subito uno sguardo alle temperature prima di vedere poi la previsione. Le temperature, le minime registrate nella notte che sono state di 9 gradi sia a Bolzano che a Trento. Le massime previste saranno attorno ai 19-20 gradi nei due capoluoghi. Abbiamo uno zero termico in libera atmosfera attualmente di 3100 metri. Vediamo dall'immagine del satellite qual è la situazione attuale. Diciamo che è presente un minimo depressionario sulle isole britanniche e questo fa confluire verso le Alpi, quindi verso le nostre regioni, della nuvolosità. Una nuvolosità non molto fitta, ancora molto irregolare e sarà variabile nel corso della giornata. Infatti la giornata sarà prevalentemente soleggiato al mattino ma gradualmente ci sarà un aumento di nuvolosità. Sono presenti attualmente in alcune valli delle nubi basse, delle nebbie, delle foschie che andranno diradandosi abbastanza velocemente. Poi come dicevamo la giornata sarà nella prima parte abbastanza soleggiata però ci sarà sempre questa nuvolosità irregolare e variabile che poi nel corso della serata potrà essere più fitta. In serata addirittura non escludiamo la possibilità di qualche debole precipitazione sparsa che sarà a carattere nevoso mediamente al di sopra dei 2500-2600 metri. Delle temperature che abbiamo già parlato sono ancora abbastanza in linea con le temperature stagionali. Per il momento è tutto, ci risentiamo dopo per una visione sulla settimana. Grazie Gianluca Tonioni. Adesso vediamo com'è la condizione del traffico sulle strade della regione. Ci colleghiamo con l'assistente capo Carol Menghini alla centrale della polstrada di Bolzano. Buongiorno a lei e ai telespettatori di Buongiorno Regione. Iniziamo subito con delle segnalazioni che riguardano la 22 del Brennero. Tra Verona e Mantua Nord visibilità ridotta per banchi di nebbia. In direzione sud le entrate e l'uscita di Rovereto Nord sono chiuse al traffico da oggi alle ore 12 fino a venerdì 21 ottobre alle ore 6. E sempre da oggi alle ore 12 anche l'uscita di Mantua Nord in direzione nord è chiuso al traffico fino a venerdì alle ore 7, sempre per lavori. Passiamo alle segnalazioni che riguardano la provincia di Trento. Traffico a senso unico alternato sulla statale 239 di Campiglio in entrambe le direzioni in località Porta di Rendena. Nella fascia oraria è compresa dalle 8 alle 17. Signaliamo inoltre che in zona Trento nel pomeriggio verrà svolto un servizio a rilevamento velocità con apparecchiatura telelaser. Si ricorda sempre l'obbligo di allacciare le cinture di sicurezza sia sui sedili anteriori che posteriori, nonché utilizzare gli omologati sistemi di ritenuta per bambini. Con questo è tutto, ridiamo la linea allo studio. Una buona giornata, una buona settimana. Grazie Carol Menghini. Adesso per la prima edizione del telegiornale diamo la linea a Bolzano dove c'è Sergio Mucci. Buongiorno Tiziana, buongiorno da Bolzano. Lutto nel mondo della chiesa e del volontariato trentino per la morte di padre Fabrizio Forti. Era il responsabile della mensa per i poveri dei frati Cappuccini. Il religioso è stato trovato privo di vita nella sua stanza del convento di Trento. Ivana Buselli. Con lui se ne va una colonna di quella chiesa capace di incarnare il Vangelo dei poveri e il volto misericordioso di Dio. Così l'arcivescovo di Trento, Monsignor Lauro Tisi, ha commentato la notizia della morte improvvisa di padre Fabrizio, il frate Cappuccino trovato privo di vita nella sua stanza nel convento di Trento. Padre Fabrizio è stato fondatore e anima della mensa dei Cappuccini che dal 2000 offre ogni giorno centinaia di pasti ai poveri. 104 aveva scritto padre Fabrizio sul calendario. L'ultima cena, quella di sabato. Fabrizio ci teneva molto a considerare il povero il signore, cioè era veramente servito dai volontari. I volontari erano al servizio dei poveri, ci teneva molto. Quindi adesso prendere in mano questa responsabilità per portarla avanti sarà un problema. Chiaramente sono i superiori che dovranno decidere. Il religioso, che avrebbe compiuto 67 anni il prossimo 20 ottobre, era molto noto in Trentino anche per l'impegno di Cappellano alla casa circondariale di Gardolo. I funerali martedì. Si è chiusa ieri a Merano con la sfilata di Carri, la tradizionale festa dell'uva, l'evento più importante della stagione turistica altoatesina, prima delle festività natalizie. Tiziana Buari. Si è chiusa con la tradizionale sfilata di Carri e bande musicali, la festa dell'uva di Merano, un evento che risale al 1887, una tre giorni a chiusura della vendemmia e del raccolto che attira ogni anno decine di migliaia di turisti di lingua tedesca. Partenza da Porta Venosta e arrivo in Piazza Terme. Quest'anno le presenze sono state 50.200 i pullman giunti da fuori città solo per assistere alla sfilata. 40 i gruppi presenti nei costumi tradizionali provenienti da Alto Adige, Austria, Germania e Svizzera. Prossimo appuntamento è il Wine Festival, poi riposo per tutti fino ai mercatini di Natale. Un contadino di 63 anni di Castelrotto è stato caricato, incornato da un toro. Ieri sera, poco dopo le 20 nel suo maso, è stato schiacciato contro la parete della stalla, ha riportato ferite di media entità ed è stato ricoverato all'ospedale di Bolsa. E ora le alte notrizie in breve. Iniziata giovedì nei comuni di Lana, Tesimo e rispettive frazioni, la festa della castagna che si protrerà fino al 6 novembre. L'appuntamento di domenica ha fatto tappa a Foiana con grande afflusso di residenti e turisti, incuriositi anche dal Catch Riggle, l'ingegnoso canestro di paglia originario proprio della zona di Lana, col quale sbucciare i frutti senza annerirsi le mani. Il raccolto di quest'anno però si è più che dimezzato, colpa della vespa del castagno, insetto originario della Cina, ormai da due anni diffuso in Alto Adige, è capace di portare al deperimento di interi castagneti. Tutto parte dal castello dei Castelbarco di Sabbionara di Avio, donato al FAI nel 1977. E questo monumento è ispirare la passeggiata di autunno che il Fondo Ambiente Italiano organizza per conoscere storie e tradizioni della provincia. Una famiglia potente di cui si hanno notizie a partire dal XII secolo e che terminò la Vallagarina per almeno quattro secoli, quando fu costretta a cedere il passo a Venezia. Tre i monumenti ad Avio da visitare che raccontano la storia del posto e della provincia a partire dall'antica pieve cimiteriale, poi la casa del vicario, emblema del governo dei quattro vicariati e la chiesa dell'Assunta. Un viaggio nella storia dell'arte dal Medioevo al Barocco. Ok, in Lega Ebel, il Bolzano interrompe la serie positiva con una sconfitta casalinga, 1-2 contro il Dornbied, penultima in classifica. Gli austriaci sono andati in vantaggio per 2-0 con una rete in ciascuna delle prime due frazioni di gioco. Il Bolzano ha accorciato nel terzo tempo con Palmieri, ma non è riuscito ad agguantare il pari ed ora si trova al quarto posto in classifica guidata dal Salisburgo. Nell'altra Lega internazionale, l'Alps League, il Renault ha battuto per 4-3 la seconda squadra di Salisburgo, mantenendo la testa della classifica. In disposizione di Rossetti di Ancona, Lelico Monza è diretta da Perenzoni di Rovereto. Inizio equilibrato, poi crescono i Lombardi. Dopo l'espulsione di Tobanelli al 28esimo per un fallo da ultimo uomo, per i Trentini cala la notte, ma i gol arrivano nella ripresa. Al sesto azioni velocità del Monza e Santo Lucito sblocca il risultato. Cinque minuti dopo il raddoppio con un colpo d'incontro di Origlio. Il Lelico sbanda e al 24esimo Derrico con un'azione personale trafigge nervo per la terza volta. Piccinini 10 minuti dopo firma il gol della bandiera, ma vince il Monza 3-1 e Lelico resta solo in fondo alla classifica. Sconfitto anche il draw, due reti a zero dai bergamaschi del Caravaggio. È il momento della rassegna stampa, solo due i quotidiani in edicolo oggi in Trentino. Iniziamo con l'Adige. Naturalmente in primo piano l'addio al frate degli ultimi. Il lutto morto nel sonno padre Fabrizio Forti aveva 66 anni. Nel 1998 nel convento della Cervara a Trento aveva aperto la mensa della Provvidenza. Nei giorni scorsi era apparso stanco, ma diceva semifermo, i miei poveri non mangiano. La cronaca tenta di rapinare la madre. Trento la donna è stata minacciata con il coltello. L'episodio sabato pomeriggio a Gardolo sarebbe stata la disperazione e il bisogno di soldi per acquistare sostanze stupefacenti all'origine del gesto. Poi tantissimo sport, come accade il lunedì. Partiamo dal basket. La Dolomiti Energia sfata l'ultimo tabù e batte Venezia 76 a 59. Tra le pagine che il giornale dedica alla partita, l'Aquila vola alto a Venezia. La Dolomiti Energia ha finalmente sconfitto la sua bestia nera e spugnato il pala tagliercio con una prova di grande intensità. I migliori della partita sono anche nella fotografia. Si tratta di Lighty, Kraft e poi anche Jefferson che hanno dato un'ottima prova. Torniamo sulla prima pagina dell'Adige per le altre notizie sportive. Altogarda in 1700 alla maratona, ma il patron della manifestazione Stefano Chelodi dice con polemica è l'ultima volta. Per la pallavolo la diate che il sogno mondiale. Mondiale Lorenzetti siamo pronti. Domani al Via in Brasile i mondiali per club. E per il calcio Serie D lo abbiamo visto anche nel telegiornale. È stata una domenica negativa per le squadre trentine. Levico battuto dal Monza e il DRO cede al Caravaggio. Vediamo la prima pagina del Trentino. Naturalmente apertura per l'addio a padre Fabrizio Forti. È morto il fratte degli ultimi. Aveva fondato la mensa dei poveri. La mattina in carcere a Spini, dove era Cappellano, il pomeriggio alla mensa in convento. Era questa la vita di Fabrizio Forti. Per tutti padre Fabrizio. In taglio alto invece il 122esimo congresso della SAT, che si è tenuto ieri a Laviss, ed è stato dedicato alle donne. Nell'orgoglio femminile conquista anche la SAT, ma la strada è lunga. Al Palatrento invece ieri grande successo per la grande sfida dei bambini. La versione baby della grande sfida ha portato più di mille persone al Palatrento. Tra le notizie di sport, che riporta naturalmente anche il Trentino, c'è questa del ciclismo su strada. I mondiali di Doha, Sagan iridato, ancora lui male gli italiani e male anche gli atleti della regione che hanno partecipato. In taglio medio si ricorda che domani in Consiglio Provinciale c'è una seduta straordinaria per la unificazione delle RSA. Una riforma necessaria, dice Zeni. Domani si discute una mozione delle opposizioni che si oppongono alla riduzione del numero delle RSA, che da 41 dovrebbero diventare 14. In taglio basso sono costretta a lasciare la scuola. L'odissea di una professoressa di Rovereto, assegnata in Val Rendena. Per i quotidiani del Trentino è tutto. Linea Bolzano per la stampa altoatesina. Iniziamo dalla prima pagina del quotidiano Alto Adige. In primo piano la vicenda aeroporto. Abidi, i tempi si allungano. Aeroporto ancora lontanissimo, il bando europeo. In taglio alto uno stradivari per il debutto dell'orchestra Haydn. Inizia la nuova stagione. Oggi al via il processo a cati attenti, a giudizio per i favori all'imprenditore dalle Nogare. Fotonotizia che riguarda la festa dell'Uva. 20 mila spettatori per il gran finale. La sfilata di carri e bande per le vie di Merano. Come sempre un successo di pubblico di colore. Quante bella Bolzano, segreta invece centinaia di partecipanti al tour cittadino tra sacro e profano. La maratona d'autunno del FAI. Approfondiamo a pagina 12 dell'Alto Adige. La notizia dell'aeroporto deserto. 26 posti a rischio. La provincia sta preparando il bando europeo. Ma i tempi sono lunghi. I lavoratori di ABD hanno un contratto di solidarietà. La presidente di ABD, Astrid Kofler, dice che la provincia si sta andando a fare. Gli uffici competenti stanno preparando il bando. I posti di lavoro al momento sono comunque sicuri. La città da scoprire. In centinaia per la Bolzano segreta del FAI. Successo per la maratona di autunno nella città. Tra sacro e profano. L'associazione scommette sui giovani. Parleremo di questa maratona anche nello spazio relativo agli approfondimenti. Poi lo sport. Per il Bolzano niente settebello. Dopo i sei successi consecutivi. La squadra biancorossa si arrende al Dornbin. In Lega Ebel. Poi di spalla. Virtus Bolzano. Un pareggio senza zucchero. In calcio Serie E. E non è andata bene invece la prima per il Neruda Volley. In Serie A1. Le ragazze hanno perso a Novara. Una delle squadre comunque più attrezzate per la vittoria finale. Questa invece è l'apertura del Dolomiten. Che riguarda le patenti che volano via diciamo così in un lampo. Sono molti gli automobilisti dal piedino pesante che sono stati pizzicati dal laser dall'inizio dell'anno. Ben 149 le patenti che sono state ritirate da gennaio fino a giugno. Poi la fotonoditizia che riguarda il numero sempre più elevato. Oltre 77.120. Gli altoatesini che vivono da soli. Anche le famiglie numerose con 4, 5 o più figli sono dimezzate negli ultimi anni. E questo è uno spaccato della società altoatesina che sta cambiando. Adesso la linea torna a Trento per gli approfondimenti. Qui con me c'è Valentina Piffer, ve l'abbiamo presentata prima. È il segretario generale del GECT, un ufficio che lavora per costruire unità e collaborazione all'interno dell'Euregio. Allora chiediamo subito dov'è fisicamente questo ufficio e da quante persone è composto. L'ufficio comune dell'Euregio si trova a Bolzano, in Viale Druso. Ed è composto da 9 collaboratori, tutti provenienti dai tre territori e tutti bilingue. Tantissime le opportunità che arrivano dall'Euregio attraverso il GECT. Partiamo dal budget. 2 milioni e 800 mila euro il budget di cui si dispone per i progetti di cooperazione sull'anno 2017. Molto di questo denaro è destinato alla ricerca. Ci faccia qualche esempio. Esattamente. Nel 2014 è stato istituito un fondo Euregio per la ricerca, ovvero un fondo atto a finanziare dei progetti nella ricerca di base, progetti trilaterali, quindi trasfrontalieri e che coinvolgono tutti e tre i territori. Siamo arrivati al secondo bando. Il primo bando si è concluso nel 2015 con sei progetti trilaterali finanziati. Il secondo bando si è concluso all'inizio del 2016 e siamo nella fase della valutazione finale. Gli ambiti sono i più vari, non solo le scienze, anche le materie umanistiche. Assolutamente sì. Quindi scienze naturali, scienze umanistiche, tecnologia, medicina. Benissimo. Adesso sulla storia del GECT dell'Euregio vi proponiamo una scheda che è stata preparata per noi da Massimo Baldi. Vediamo. I primi a parlarne erano stati intorno alla fine degli anni Sessanta il presidente della provincia autonoma di Trento Bruno Kessler e il suo omologo tirolese Eduard Valneufer. Il loro intento, abbattere le frontiere e iniziare una proficua collaborazione fra Trentino, Tirolo e Alto Adige, nel segno di un'Europa riappacificata dopo le lacerazioni del nazionalismo e delle due guerre mondiali. Progetto ambizioso per quei tempi ma ineludibile che trova risposta già nel 1971 con la costituzione ad Innsbruck di un'Euregio alpina. Il vero salto di qualità si aperò nel gennaio del 1993 quando Italia ed Austria, anche sulla scorta delle indicazioni della Convenzione Europea di Madrid, concludono un accordo di collaborazione transfrontaliera che coinvolge le tre realtà del Tirolo storico Trentino, Alto Adige e Tirolo del Nord, appunto. Nel 1991 si svolge la prima riunione congiunta dei presidenti delle tre province del Tirolo storico. Nel maggio del 1995 a San Michele all'Adige viene costituita la cosiddetta Rundartisch, tavola rotonda dei tre presidenti, una sorta di esecutivo dell'Euregio col compito di coordinare iniziative comuni. Contestualmente viene istituita la seduta congiunta dei tre consigli provinciali, chiamata a proporre e votare mozioni ed ordini del giorno di comune interesse, organismo che periodicamente si riunisce in varie località dei tre lender. Sul piano politico l'apertura di un ufficio di rappresentanza dell'Euregio a Bruxelles intorno agli inizi del 1995 crea polemiche e timori di fuga in avanti, peraltro superate dall'apertura di analoghe sedi ad opera di altre realtà regionali e interregionali. L'ufficio è chiamato a svolgere un importante ruolo di cerniera tra le province dell'Euregio e la comunità europea. Il 14 giugno 2011 a Casteltun un nuovo passo avanti verso una più concreta e organica collaborazione trasfrontaliera. Viene costituito infatti il GECT, Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale, che ha quale obiettivo la facilitazione e la promozione della collaborazione trasfrontaliera, transnazionale e interregionale con l'attuazione di progetti concreti. Non mancano però le iniziative culturali. Mostre, rassegne musicali, scambi nell'ambito dell'istruzione sono all'ordine del giorno, attività che avvicinano cittadini di lingua diversa nel segno di una ritrovata collaborazione. L'Euregio rappresenta oggi una popolazione di circa 1.700.000 abitanti su una superficie tutale di 26.000 km2, un ritaglio d'Europa in un'Europa in cui tornano minacciose le ombre del nazionalismo e l'idea di un ritorno ai confini. Valentina Piffer, il GECT sostiene la collaborazione trasfrontaliera, dicevamo, nella ricerca, ma c'è un'importante novità che riguarda i servizi sanitari. Di cosa si tratta? Certo, stiamo definendo in questi giorni proprio una convenzione per estendere la fruizione dei servizi del centro di prototerapia di Trento a tutta l'Euregio, che significa che i pazienti oncologici provenienti dal Tirolo e dall'Alto Adige, per cui è giustificata ed indicata la prototerapia, potranno fruire del trattamento di prototerapia a Trento. Esattamente, come i residenti del Trentino, dunque. E sul piano sociale per novembre c'è un'altra novità in vista? Sì, stiamo lavorando ad una campagna di sensibilizzazione congiunta, quindi insieme con Tirolo e Alto Adige e Trentino, nel campo della tutela delle donne che hanno subito violenza. Cerchiamo adesso di dare una panoramica trasversale per le età. Quali opportunità arrivano attraverso il GECT, per esempio, ai più giovani, ai bambini e poi agli studenti? Abbiamo molti progetti rivolti ai giovani, sia ai giovanissimi, quindi ai ragazzi delle medie, sia a ragazzi un pochino più grandi, delle superiori e dell'università. Per i ragazzi delle medie, il nostro focus sono i soggiorni, i camp estivi, abbiamo l'Euregio Summer Camp, lo Sport Camp, il Music Camp, tutti con focus diversi, ma l'obiettivo rimane lo stesso, quello di far partecipare i ragazzi provenienti dai tre territori e far vivere la quotidianità ai ragazzi per una conoscenza reciproca e in un ambiente bilingue. E come si arriva a queste esperienze? Come vengono pubblicizzate? Dove ci si iscrive? Noi abbiamo i nostri canali, il nostro sito web, i nostri canali social e per la promozione, la comunicazione di questi progetti ci avvaliamo anche di tutti i dipartimenti, le ripartizioni, scuola e cultura delle varie province. Veniamo alle famiglie. Quali agevolazioni arrivano dal GECT alle famiglie? In questo momento stiamo lavorando ad un family pass, ovvero una tessera valida in tutti e tre i territori che dà l'opportunità a famiglie di avere una scontistica sia negli esercizi commerciali che culturali e valida su tutti e tre i territori. E ci sono delle agevolazioni che riguardano anche la mobilità nelle tre regioni dell'Euregio? Sì, ci stiamo lavorando. Questa è una delle grandi novità che proporremo per il 2017 e che verrà proposta e deliberata proprio fra due giorni, il 19 ottobre, quando ci sarà la giunta del GECT, quindi tre presidenti che si incontrano e delibereranno i progetti, il programma di lavoro 2017. E questo è uno dei progetti che verrà proposto. Veniamo alla fascia d'età più avanzata, agli anziani. C'è collaborazione anche su questo, tra le tre regioni dell'Euregio? Assolutamente sì, da anni lavoriamo alla collaborazione fra le residenze per anziani dei tre territori. Da un paio d'anni si è iniziato anche uno scambio di personale fra i tre territori e poi abbiamo l'organizzazione di simposi annuali per lo scambio di know-how e best practice. Allora Valentina Piffero, buon lavoro, rimaniamo in attesa delle novità che giovedì verranno fuori dalla giunta di Castel Toblino. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Adesso noi torniamo a Bolzano dove ieri si è svolta la giornata del FAI come in molte altre città italiane e vi proponiamo un itinerario alla scoperta delle chiese del centro città gestite da ordini mendicanti. Il servizio è di Natascia Gargano. Il Chiostro, con quello che resta dei suoi affreschi cinquecenteschi, mostra con chiarezza la storia travagliata di questo convento. La chiesa dei Domenicani ha subito gravi danni durante la Seconda Guerra Mondiale, fungendo per un periodo anche da magazzino e deposito di armi. È riuscita però a conservare un piccolo gioiello, aperto solo in occasioni speciali, la Cappella di Santa Caterina, con il suo ciclo di affreschi religiosi risalenti al Trecento, uno dei più importanti in Alto Adige. Nel Quattrocento, quando l'intero complesso domenicano subì delle ristrutturazioni notevoli, anche questa cappella fu ristrutturata con la costruzione di volte a crociera, che però ci permisero di mantenere in quasi perfette condizioni gli affreschi al di sotto. Qui si possono scoprire figure come questa, che ricorda un mago con un cappello a punta e una conchiglia. È l'indizio che fa supporre si tratta di San Giacomo di Compostela, o del nostrano San Romedio. Si dice appunto che San Romedio fosse molto devoto alla figura di San Giacomo e questo dimostrerebbe quindi anche un culto nei confronti di questa figura anche sul territorio atesino, cosa che finora non era stata provata. Poco distante la chiesa dei Cappuccini, con il suo bel giardino, svella all'interno testimonianze del passato, poco note anche agli stessi bolzanini. Le mura medievali di quello che fu il castello dei Conti di Tirolo e le stanze di preghiera dei frati, un tempo numerosi. Sul tabellone i luoghi delle messe e i destinatari delle intenzioni per organizzare il lavoro della giornata. Solo che 50 anni fa c'erano le 25, oggi siamo in tre. Ma io dico sempre, se noi che ci siamo ancora facciamo quello che possiamo, poi il Signore Dio provvederà. La chiesa dei Francescani, il cui complesso risale alla prima metà del Trecento, conserva un altare ligno a scrigno, con al centro la natività di Hans Klocker, una delle opere d'arte gotica più insigni conservate in una chiesa di Bolzano. Fuori dalle rotte turistiche, invece, merita una tappa la chiesa dedicata a San Giorgio, il cui interno barocco contrasta con l'austerità esterna tipica del gotico. Annessa, la residenza dei sacerdoti teutonici, eredi dell'antico ordine monastico cavalleresco, nato al tempo delle crociatte per difendere i pellegrini provenienti dalla Germania. E adesso torniamo a Bolzano. Diamo la linea a Sergio Mucci per un riepilogo e un aggiornamento delle notizie del giorno. Ticciato, iniziamo dal lutto nel mondo della chiesa e del volontariato trentino per la morte di padre Fabrizio Forti, era il responsabile della mensa per i poveri dei frati Cappuccini. Il reggisusto è stato trovato privo di vita nella sua stanza del convento di Trento. E si è chiusa ieri a Merano, con la sfilata di Cari, la tradizionale festa dell'uva, l'evento più importante della stagione turistica, prima delle festività natalizie, una tre giorni a chiusura della vendemmia e del raccolto che attirà ogni anno decine di migliaia di turisti, soprattutto di lingua tedesca. Quest'anno le presenze sono state 50.200 pullman giunti da fuori città solo per assistere alla sfilata che si ripete ormai da 130 anni. Rissa ieri sera intorno alle 20 in piazza Santa Maria a Trento due cittadini stranieri di 29 e 31 anni sono rimasti feriti e sono stati poi medicati all'ospedale Santa Chiara sul posto le forze dell'ordine che hanno raccolto alcune testimonianze. Per lo sport parliamo di hockey, nella Ebel dopo sei vittorie consecutive si ferma la corsa del Bolzano, va tutto in casa dal Dornbirne in Alts League. Ancora una vittoria ieri per il Renone che sul ghiaccio amico ha sconfitto per 4 a 3 il Salisburgo. Gli altotesini, anche se con una gara in più, sono ora in testa con 27 punti seguiti dallo Jesenitze a 26 e dal Valpusteria a 24. È tutto, linea Trento, attiziano Raffaele. Torniamo da Meteo Trentino per vedere cosa ci aspetta nei prossimi giorni. Gianluca Tognoni. Allora, inizio settimana ancora l'insegna della variabilità, ma con maggior nuvolosità rispetto ad oggi, soprattutto per la giornata di mercoledì. Comunque sia martedì che mercoledì, allora tratti nuvolosi che prevaranno sui brevi tratti soleggiati. Sarà maggiore anche la probabilità di qualche debole rovescio, soprattutto nella giornata di mercoledì. Le temperature saranno in flessione, quindi le eventuali precipitazioni daranno neve al di sopra dei 2000 metri mediamente. Un po' meglio per quanto riguarda poi giovedì e venerdì, dove invece prevarranno i tratti soleggiati, però le temperature, diciamo, saranno in ulteriore calo, quindi seguiranno un po' l'andamento stagionale, quindi temperature più fresche. Per il meteo è tutto, arrivederci ai prossimi giorni. Grazie a Gianluca Tognoni. Noi per oggi terminiamo qui, ma vi annuncio, vi anticipo di cosa ci occuperemo domani mattina. Buongiorno Regione, torno alle 7 e mezza, subito dopo Buongiorno Italia. Il martedì, come sempre, è dedicato alla salute. Domani ci occuperemo di disabilità, in particolare di un festival interamente dedicato alla disabilità, distribuito su due fine settimana in due città e organizzato da 6 associazioni che si occupano di disabili. Presenteremo un modo di vivere e di vedere la disabilità nuovo, quello che arriva anche dalla nuova legge argentin, che sarà protagonista della prima parte di questo festival. Ma poi vi racconteremo anche la storia di Mirko Toller, che è diventato famoso grazie ad uno spot con Checco Zalone. Per oggi è veramente tutto, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. A domani. A domani.